La parola. Mi creda Presidente, io sono veramente imbarazzato quando sento certe risposte a determinate emozioni che forse portano un logo ben preciso. Perché abbiamo sempre detto che le emozioni si votano in base al contenuto. Il contenuto di questa mia mozione penso che sia chiaro. Mettere in atto tutte le procedure per predisporre la corretta e visibile segnaletica stradale, illuminare la strada dove è sprovvista di illuminazione, mettere in protezione gli autoveicoli lungo il tratto dove sono presenti canali aperti delle acque reflue, mantenendo la costante pulizia degli stessi, posizionare rallentatori di velocità o deterrenti, specialmente in prossimità delle attività commerciali, dell'incrocio con via Giuseppe Fraccaroli, mettere in atto con ANAS le procedure per installare pannelli luminosi visibili in prossimità dell'incrocio. Non capisco con quale coraggio si debba dire, Presidente Meloni, si interviene su una via ma non sulla città. Ricordo che via Austis, che lei precisa molto, va chiamata via Austis, ha detto che è superata dai fatti, ancora la gente non sa dove camminare, ancora manca un lampione stradale, ancora i bambini camminano in mezzo alla strada e c'è stato un altro incidente. Io non capisco che visione avete di questa città. La richiesta di messa in sicurezza di una strada, una volta si dice è superata dai fatti. Perché non potete più dirmi, ritirala e portala in commissione? Perché neanche le commissioni fate? Allora che mi dite? Si deve vedere tutta la città e non nel singolo specifico? Forse avevo ragione prima quando dicevo sul passo scuro e forse per questo motivo non è intervenuta, era in difficoltà. Con la stessa difficoltà con cui mi sta rispondendo. Ma la invito a fare il consigliere, non il portavoce di qualcuno.